È stata una partita molto positiva, giocata bene dalla mia squadra, infatti siamo andati addirittura su un punteggio di 7-1, poi abbiamo concesso a loro gli ultimi due gol per un finale di 7-3, però comunque abbiamo fatto una partita perfetta perché ci tenavamo comunque a riscattarci davanti al nostro pubblico che ultimamente non arrivavano le partite che provavamo in casa, quindi siamo soddisfatti di aver regalato a loro comunque una buona prova e adesso pensiamo alla partita di domenica che per noi sarà un vero scontro per la vittoria del campionato, andremo a Morfetta a giocare contro la prima della classe che dista un punto da noi, quindi cercheremo di fare il sorpasso per andare noi prima in classifica, quindi cerchiamo in settimana di lavorare bene, recuperare magari qualche acciacco che abbiamo incontrato in settimana, quindi ci proviamo per questa partita che sicuramente sarà una partita molto importante su quello che poi sarà la classifica finale.